Tanti negozi in più per emozioni nuove ogni giorno. È il Centro Le Grange. Più scelta per il mio shopping. Tante occasioni, tante novità. E un grande ipermercato iperfamila. Centro commerciale Le Grange a Piedimonte San Germano. Aperto tutti i giorni con orario continuato. Ogni terzo weekend del mese, artigianato, antiquariato, collezionismo e prodotti tipici in mostra. Le Grange. Shopping con più emozioni.